Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato dal Mulino, dal titolo Urbano secondo e l'Italia delle città, riforma crociata e spazi politici alla fine dell'undicesimo secolo di Antonio Musarra che abbiamo il grandissimo piacere di avere il nostro gradito ospite al quale come mia abitudine io lascio subito la parola perché ci parli di Urbano secondo e l'Italia nel Medioevo. Prego. Bene, bene, grazie Maurizio, grazie a tutti gli amici di Italia Medievale che mi danno l'opportunità di presentare questo saggio freschissimo appena pubblicato dal Mulino, un lavoro di ricerca, devo dire un lavoro di ricerca che affonda le proprie radici, insomma quasi quasi nel mio percorso dottorale dove alcune delle idee di questo saggio erano già in nuce, quindi sto parlando ormai di dieci, dodici anni fa, ma che si è concretizzato però soltanto di recente. Di che cosa parla? C'è ancora bisogno di parlare di un personaggio come Urbano secondo? Sappiamo tutto di Urbano secondo? Perché un altro libro su Urbano secondo, sulla prima crociata? Ebbene, in realtà questo libro effettivamente ha l'ambizione, quantomeno, di dire qualcosa di nuovo. Cercherò di spiegarmi, semplificando naturalmente il più possibile un discorso che già di per sé è complesso. Al centro del libro c'è sicuramente quella domanda che Jonathan Riley Smith, grande storico delle crociate, aveva posto come titolo ad uno dei suoi libri più famosi, che cosa sono state le crociate, quindi che cos'è effettivamente una crociata, cosa possiamo definire come tale. Tuttavia c'è qualcosa di più, c'è da un lato il tentativo di contestualizzare il sorgere dell'idea di crociata nel proprio tempo, ovvero nel tempo di Urbano secondo, e dunque di capire quale fosse l'intenzione di Urbano. Ovviamente anche su questo argomento si è scritto molto, si è analizzato in tutte le salse il famoso discorso di Clarmont, di cui abbiamo versioni posteriori, si è cercato di comprendere tramite le lettere di Urbano cosa avesse effettivamente in mente. Mi sembra tuttavia che anche su questo versante si possa dire qualcosa di nuovo, e ora cercherò di spiegare perché. Dall'altro punto di vista questo libro introduce un elemento ulteriore rispetto alla riflessione che solitamente siamo abituati a fare sulla crociata. Il legame tra la crociata, da un lato, la grande riforma ecclesiastica dell'undicesimo secolo, quella che malamente siamo abituati a definire riforma gregoriana. Perché malamente? Perché non fu solamente la riforma di Gregorio, fu un complesso di intelligenze con voci, spesso anche discordi tra loro, che modificò la faces della Chiesa, possiamo chiamarla riforma ecclesiastica in generale. Terzo polo, quelli che noi chiamiamo nuovamente, malamente, i comuni italiani, la nascita dei comuni. Ecco, sono tre temi, tre grandi temi che tutti noi appassionati di storia medievale abbiamo poi incontrato nella nostra ricerca, nelle nostre letture. Ebbene, il presupposto di questo libro è che questi tre temi, cioè le storiografie, gli storici che si sono occupati di questi tre temi, lo hanno fatto spesso in maniera separata l'una dall'altra. Cioè i crociatisti quasi mai hanno guardato al contesto della riforma della Chiesa, da un lato, e a quello della nascita dei comuni italiani, dall'altro. Gli storici della riforma altrettanto si sono preoccupati principalmente della riforma come oggetto storiografico, quasi mai entrando negli altri due campi, quello della crociata, quello del comune. I comunalisti hanno fatto lo stesso. Recentemente la comunalistica ha avuto uno sviluppo eccezionale, ha finalmente individuato come momento, come atto di nascita di quello che noi chiamiamo comune, o meglio di una coscienza comunale, il conflitto con il Barbarossa, quindi spostando in avanti quella che un tempo si riteneva la cosiddetta nascita dei comuni. Siamo di fronte a un processo, non a un anno di nascita. Ebbene, i comunalisti stessi quasi mai hanno preso in considerazione e la crociata e il generale contesto della riforma. Allora, l'obiettivo primario di questo libro è quello di ricucire tre storiografie, di mettere in dialogo queste tre storiografie per dire finalmente qualcosa di nuovo, per dire finalmente qualcosa di nuovo. Ogni tanto le novità ci vogliono anche nella storia medievale, anche a livello di macro-idee, di idee larghe e suggestive, come diceva Roberto Lopez. Una breve parentesi su come ho sviluppato in me questa idea. prima di parlare poi nel dettaglio delle novità, diciamo così, della struttura del libro. Beh, io sono partito appunto una dozzina di anni fa con una tesi di dottorato dedicata ai genovesi e la crociata. In Partibus Ultramaris, pubblicata poi dall'Istituto Storico Italiano per Medioevo, un lavorone di 800 pagine che vi sconsiglio caldamente. All'interno di questo lavorone vi era un capitolo dedicato proprio alla nascita del comune di Genova in rapporto alla crociata. E in quel capitolo avevo intuito l'esistenza di un legame tra, più che la nascita del comune che sostanzialmente non esiste, parole che citavo, che cito apertamente, tra la partecipazione crociata, la presenza di genovesi, di elite di vario tipo, per fare riferimento anche un testo recente di Chris Wickham sul mare e l'avvio di forme di autogoverno all'interno di un rinnovato spazio politico che poi ho naturalmente inserito nel volume. La mia prospettiva era prettamente crociatistica. Nel decennio successivo ho avuto una doppia fortuna, diciamo quella di incontrare e di poter lavorare fianco a fianco con alcuni tra i maggiori comunalisti italiani, a partire da un assegno di ricerca, da due assegni di ricerca ottenuti a Firenze presso la cattedra di Andrea Zorzi, che a partire da 2017, 2016-17, ha messo insieme un seminario di studio sulle città rette comunali e signorili, non sto a entrare nei termini, che funziona tutt'oggi e chi mi ha letteralmente aperto questo versante della storiografia? Andrea Zorzi, Pierluigi Terenzi, Enrico Faini e in molti componenti di questo gruppo che non è numero, che però non è numero per non dimenticarne qualcuno, ma realmente mi hanno aiutato a cementare questi due aspetti. Io avevo studiato la crociata, alla crociata si è aggiunto il comune. Nel momento in cui sono arrivato in Sapienza, nel 2019, ho fatto un incontro fondamentale con Umberto Longo, uno dei massimi esperti di riforma della Chiesa che abbiamo in Italia, che assieme a Nicolangelo D'Acunto, Glauco Maria Cantarella, mi ha ulteriormente aperto questo filone. Del tutto io ho parlato con Franco Cardini, uno dei miei mentori, un amico oltre che un maestro, il quale mi ha indirizzato fornendomi in lettura incredibile dictu la sua tesi di laurea discussa negli anni Sessanta con Sestan e mai pubblicata, di cui ho una sacra copia, mi ha indirizzato ad applicare questi tre aspetti, crociata, riforma, comune, alla società italiana. A quel regnum Italia che vede mescolarsi questi tre aspetti. Ed è così che è nata la ricerca di cui stiamo parlando, no? Allora, ed è nato l'idea, proprio grazie a quel volume di Cardini, quella tesi di Cardini, di riprendere in mano l'elemento di fondo, no? Ovvero il rapporto tra crociata, riforma e comune, proprio al tempo di Urbano II. Ecco che il ciclo che si era aperto con Impartibus Ultramaris, passando per la scuola comunalistica, passando per la scuola relativa agli studi sulla riforma, si è ricucito, eh, grazie ai consigli del mio maestro, di cui sarò sempre grato, naturalmente. Di uno dei miei maestri, di cui sarò sempre grato. E è nato questo libro. Questo libro allora si concentra su un periodo preciso, 1088-1099, periodo di Urbano II, con uno sforamento, i primi anni del pontificato di Pasquale II, estremamente importanti perché Pasquale raccoglie le eredità di Urbano. Procede all'interno di cinque capitoli in maniera molto schematica, analizzando il rapporto tra Urbano e l'Italia, di cui sappiamo poco. Perché? Perché la storiografia, le varie storiografie di cui vi parlavo prima, si sono concentrati su altri aspetti. Certamente il rapporto tra Urbano II e la Gallia, cioè quell'area del centro meridione francese che lo vide peregrinare fino a giungere a Clermont, su cui sono state scritte pagine eccelse, lasciando da parte l'Italia, o meglio il Regnum Italia, quindi l'Italia centosettentrionale. I primi due capitoli non fanno altro che seguirne l'itinerario. Andata e ritorno, si parte da una biografia di Urbano aggiornata, lo si segue nel meridione d'Italia, innanzitutto, lui compie ben cinque viaggi nel meridione, sottolineando da un lato il rapporto con i normanni, dall'altro quello con i greci presenti sul territorio. Dopodiché lo si segue nel secondo capitolo lungo l'Alta Italia, se non arrivare al grande concilio di Piacenza che precede Clermont, al concilio di Clermont e ritorno, osservando bene quali sono le sue mosse e cercando di capire perché a un certo punto lui si rivolge agli italiani invitandoli a crociata. Le informazioni riguardo non sono molte, ma sono estremamente interessanti, tanto che è possibile avanzare qualche ipotesi, circa una strategia di azione che Urbano porta avanti tornando dal concilio di Clermont. Lui associa che cosa? La chiamata alle armi per liberare, vedremo che cosa, la chiesa d'Oriente, ma in che senso? All'invio di un vescovo di propria obbedienza che vada a sostituire il vescovo, dal suo punto di vista scismatico, fedele a quello che è il grande competitor di Urbano II, ovvero Clemente III. noi lo chiamiamo antipapa, non c'è nulla di più sbagliato, perché in questa maniera si sposa la linea vincitrice. Papa legittimo nell'ambito della Reichskirche, della chiesa regia, ci vescovo di Ravenna, Guiberto, divenuto papa col nome di Clemente III. C'è una lotta, abbiamo due pontifici e oggi ne sappiamo qualcosa. Grazie allo strumento della crociata urbano a Genova, a Bologna, a Piacenza, a Como, a Milano, a Lucca e in chissà quante altre realtà, Bologna l'ho citata, sì, riesce a sostituire il clero scismatico con quello che le fonti Bernoldo di Costanza in primis chiamano cattolico. Allora la crociata è uno strumento. Non vorrei dire che è solo uno strumento, ma per il papa è soprattutto uno strumento. Di qui la domanda, a cosa serve questo strumento? Allora io procedo proprio nel centro del libro, che fa da collante tra questi cinque capitoli, tra questa prima parte movimentista in cui si segue urbano nelle sue peregrinazioni, procedo a cercare di comprendere che cosa urbano aveva in mente e vado ad analizzare nuovamente quelle che sono le fonti principali da questo punto di vista, cioè l'epistolario di urbano. Vero, il concilio di Clermont, gli atti conciliari e il discorso riportato da vari cronisti, io sposo la versione di Fulchero di Chartres, che è quella più vicina agli ideali di riforma della Chiesa, ma è soprattutto grazie all'epistolario che noi possiamo comprendere alcuni dati di fondo estremamente importanti che vado solamente ad elencare, ovviamente bisogna leggere per comprendere nel dettaglio. Bene, innanzitutto urbano pone sullo stesso piano Oriente, Occidente e Meridione, cioè dal suo punto di vista esiste quello che noi chiamiamo Clash of Civilization, qualcuno storcerà il naso naturalmente e fa bene a farlo, però per urbano la lotta anti-Saracena si espande tanto nella penisola iberica, la cosiddetta reconchista, continuiamo a chiamarla così anche se il termine scorretto, quanto nel Meridione d'Italia, dove i normanni nel 1091 hanno appena terminato di conquistare la Sicilia, che va riorganizzata dal punto di vista del clero latino, tanto in Oriente, presso quella chiesa d'Asia che necessita di essere recuperata e riorganizzata. In Europa Mauros, in Asia Turcos. Ecco, questi due poli fondamentali sono posti da urbano sullo stesso piano. Urbano si pone nei loro confronti con un'idea racchiusa in una parola chiave che compare continuamente nella sua produzione. Perché mandare eserciti verso questi poli differenti? Per mettere in atto la restituzio. A volte la chiama recuperatio, quella crociata, quella che noi chiamiamo crociata, termine che non esiste, l'abbiamo detto mille volte, per lui è una restituzio. Di che cosa? Una restituzio al culto cristiano di quelle sedi episcopali strappate dai saraceni alla cristianità. Il recupero degli antichi episcopati sta alla base dell'idea che noi chiamiamo crociata di urbano secondo. E questo recupero avviene da Oriente a Occidente, avviene nel meridione d'Italia. Ed è voluto da Dio perché, come dice il profeta Daniele, ipse transfert regna et mutat tempora. Lui trasforma i regni e muta le stagioni, se vogliamo. E ovviamente il Papa, in quanto rappresentante di Pietro sulla Terra, ha in proprio potere la possibilità di spingere le masse, l'élite, chi vogliamo, a questo recupero. Ecco, cosa sottostà questo discorso? Null'altro che la costruzione del primato giurisdizionale della Chiesa di Roma. Nessuno mette in discussione il fatto che il papato, prima di Gregorio VII, prima di Urbano II, prima di Pasquale o Callisto II, avesse un primato di natura onorifica e per certi versi dogmatica. Ma il papato non aveva potere sulla nomina dei vescovi nelle singole diocesi dell'orbe cristiano. Quello che accade dopo la riforma ecclesiastica è esattamente questo, la capacità papale di nominare primati e conseguentemente metropoliti e via giù lungo la la gerarchia. Ecco, abbiamo una gerarchizzazione del papato. La crociata serve Urbano ad affermare questi principi, tanto in Oriente, tanto in Occidente, tanto nel Meridione. Addirittura ponendo la Chiesa di Roma e il primato di Pietro al di sopra di quello costantinopolitano. C'è un interessante scambio di lettere tra il patriarca greco Grammaticos e Urbano II, dove il patriarca lo chiama Paolo. Ci fa, no, io sono Pietro, stiamo attenti, non sono Paolo, non sono successore di Paolo. E tutto rientra naturalmente in questo gioco. Qual è la novità? Questa è già in parte una novità. È una rilettura della crociata che va oltre le definizioni che siamo abituati a dare. Pellegrinaggio armato, schiuma dell'Occidente che si ribalta in Oriente. È un quadro più generale, sicuramente. La novità è che questo stesso schema può benissimo applicarsi al territorio in cui Urbano, diciamo, tra virgolette vive, o meglio, al territorio limitrofo, cioè al Regno d'Italia, alla marca di Tuscia e a quell'area contesa proprio con l'episcopato Guibertino. Ed ecco il passaggio agli ultimi due capitoli, poi mi taccio se hai qualche domanda, Maurizio, naturalmente ti lascio la parola. Negli ultimi due capitoli io cerco di capire come questa rinnovata per noi idea di crociata possa essere stata applicata da Urbano proprio in territorio italico, ripescando il vecchio tema cardiniano degli italiani alle crociate, che era l'oggetto della tesi di laurea di cui dicevo prima, che assume in questo senso un nuovo significato, assume un nuovo significato nel momento in cui appunto Urbano unisce l'istanza di rovesciamento delle cattedre scismatiche all'invito alla crociata. La novità qual è? La novità sta appunto nell'individuare in questo preciso periodo, questo decennio, quindicennio, ventennio, il germe per una rinnovata autocoscienza dei ceti cittadini, che sulla base, sul modello della libertas ecclesie propugnata dal papato stesso, a laicis, a saracenis, eccetera eccetera, dai nemici della fede e così via, propongono la propria libertas. L'impero delegittimato dal papa crea uno spazio aperto, uno spazio politico libero da interferenze, all'interno del quale non si inserisce più il vescovo, come era stato nel periodo precedente. a sua volta delegittimato in certo qual modo dal moto di riforma della chiesa, si è reso il vescovo, il vescovo che conosciamo noi oggi, più un pastore d'anime che un reggitore di città, permettendo a quell'elite di affermare dei chiari processi di autogoverno. E ora devo fare una piccola precisazione. Questo elemento non nasce con la crociata, questi elementi non nascono con la crociata, questi sono elementi precedenti, in parte posteriori, parliamo di un intero periodo. Seconda precisazione, questi elementi non si affermano ovunque, ogni città, e questa è la bellezza della storia medievale italiana, afferma un percorso proprio, differente, libero, diverso, con resistenze. Bisogna guardare alla contingenza, ai singoli contesti, non agli idealtipi applicabili poi o meno ai singoli contesti. Ogni città ha una storia meravigliosa e diversa. Cosa c'entra la crociata? La mia tesi è che la crociata fornisca un acceleratore, un acceleratore a quei ceti capaci di porre in atto politiche autonome. E qua devo tornare brevemente all'esempio genovese, dove questo è chiarissimo. Perché? Perché le fonti fortunatamente sono parlanti. Noi sappiamo, grazie agli scritti di Caffaro di Caschifellone, agli Annales Iannuenses e agli scritti minori dello stesso Caffaro, chi fossero alcuni, almeno alcuni dei nomi di coloro che parteciparono alle prime spedizioni genovesi. Non c'è solamente il Guglielmo Embriaco, che tutti conosciamo grazie al Tasso. Abbiamo una vera e propria lista di primi crociati genovesi. Bene, già al tempo della mia tesi dottorale avevo notato come diversi nomi, tra quelli riportati da Caffaro come partecipante alla prima spedizione 1097, si ritrovino nelle prime liste di consoli del primo quindicennio, ventennio del nuovo secolo, del dodicesimo secolo. Coincidenza? Chi può dirlo? È interessante il caso ed è difficile appunto purarlo per altre realtà. Sta di fatto che Genova, lo sappiamo benissimo, come Pisa, sono tra quelle città che affermano prima delle altre un autogoverno, fornendo, e questa è un'altra mia convinzione più che ipotesi, che lascio al dibattito comune, quasi motivo di imitazione per altre città del nord Italia. Cioè quegli stessi ceti che sulle galee partecipano non soltanto alla prima crociata, ma questo generale moto che Urbano dipinge di riconquista dell'orbe cristiano, quindi possiamo risalire indietro nel tempo con la presa di Almadia del 1087 e gli episodi pisani, gli interventi pisani nel meridione di concerto con i normanni degli anni sessanta, eccetera, eccetera. Ebbene, è in questo periodo, con questa definizione allargata, se vogliamo, di crociata, che questi ceti sperimentano forme di autogoverno grazie a quell'avvallo papale che permette loro di legittimare il distanziamento dall'impero, delegittimato perché scomunicato. Allora, il volume tratteggia in maniera naturalmente più accurata di quanto abbia fatto io oggi quello che è un grande affresco che io spero costringerà le tre storiografie innanzitutto a parlarsi tra loro, a tenere conto degli altri contesti, a tenere conto anche di un elemento ulteriore che accenno verso la fine del volume, che è l'elemento ideale. Questi ceti non sono spinti da motivazioni politico-economiche, per come le immaginiamo noi oggi. C'è un'idea di incarnare quel miles cristianus che la pubblicistica coeva va tratteggiando molto forte. I genovesi non si tratteggiano come mercatores, ma come bellatores, dei. Questo è un elemento importante. Potrei citare la vicenda milanese con la partecipazione di alcune famiglie importanti. Pensate all'edificazione di chiese dedicata al Santo Sepolcro, quando in corrispondenza della presa di Gerusalemme? Sì, va bene, ma quando ha luogo la presa di Gerusalemme? Il 15 luglio del 1099. Possibile che quasi nessuno, parlo soprattutto per noi crociatisti, me compreso, si sia accorto che il 15 luglio veniva celebrata la festa dell'addivisio o dispersio apostolorum, non è una data scelta a caso. Identifica il ritorno degli apostoli a Gerusalemme, la ricostituzione della chiesa apostolica. Questa è l'idea prettamente presente nella riforma, la ricostituzione dell'ecclesia primitiva e forma. Ecco, quello che sarà da fare, io spero, grazie a un dialogo, un dialogo sereno tra posizioni, storiografie differenti, che tenga conto di tutti questi piani materiale e ideale o culturale, sarà rivedere fondamentalmente la storia delle nostre città da questo punto di vista. Cercare di capire se questo schema possa applicarsi a determinate realtà. Quali realtà rispondono allo schema qui identificato? Seconda cosa, bisognerà cercare di capire come i successori di Urbano, a partire da Pasquale II, meno Gelasio, che è una figura anch'essa interessante, ma più che all'Isto II, uno dei papi maggiormente implicati con l'Oriente cristiano, portino avanti in quel ventennio-trentennio posteriore Urbano, lo stesso discorso. E allora si comprenderà meglio anche la stessa storia delle crociate e, se vogliamo, l'intervento di un Federico Barbarossa in Italia, così come la sua partecipazione a un movimento che sta nel frattempo mutando e ormai a distanza di un cinquantennio è diventato qualcosa di diverso, sino ad arrivare a un Federico II, in cui io vedo il tentativo di recuperare quel diritto al dichiarare legittima una guerra secondo la dottrina del bello Miustum, fissata poi da Graziano nel suo decreto, che fondamentalmente Gregorio VII e Urbano II avevano strappato di fatto ad Enrico IV. Ecco, questa è la mia grande aspirazione. Non che io debba fare questo lavoro, la mia aspirazione è quella di instradare, indirizzare giovani, valenti, studiosi allo studio di queste realtà, produrre monografie sulle singole città che tengano conto anche di questo aspetto. Il passaggio delicato tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, a cui sono stati dedicati libri importantissimi, penso il volume di Fiore sull'area extracittadina, diciamo così, va riletto anche dal punto di vista cittadino, tenendo conto, a mio avviso, di queste istanze. Antonio, è davvero interessante perché apre uno spazio a un'indagine più complessiva di un fenomeno che tra undicesimo e dodicesimo secolo cambia la faccia dell'Europa, non solo dell'Italia, ma dell'Italia anche in modo consistente e della Chiesa. Quindi davvero grazie per questa presentazione. Avrei milioni di domande da farti, ma rischieremo di annoiare e di rimanere qua a vita. Io a questo punto mi limito a ricordare il titolo del libro, così la gente va a comprarselo, che mi sembra la cosa più saggia che può fare. Il titolo è Urbano II e l'Italia delle città, riforma crociata e spazi politici alla fine dell'undicesimo secolo, appena pubblicato dal Mulino e ovviamente di Antonio Musarra, che abbiamo avuto l'enorme piacere di avere il nostro graditissimo ospite. Io ti ringrazio davvero tanto e arrivederci alla prossima videopresentazione. Grazie ancora. Grazie, grazie a tutti, grazie. Grazie a tutti.